Sono Livia, figlia di Marco Livio Druso. Chiedo il vostro perdono. La Repubblica è morta e non tornerà mai più. Ora sono io, Roma. Cosa facciamo adesso? Tu hai sempre un piano. Sì, ho un piano. Fare di te un dio. Iullo, Tiberio, Druso e Oradomizio. Alla mia morte Roma arriverà a voi. Alla famiglia! Alla famiglia! Gaio ha iniziato la corsa alla sua successione. Roma non si eredita. Basta con la sua tierenza. Basta col suo potere. Torniamo in Senato e restauriamo la Repubblica. Sarà rischioso. Se qualcosa va male, fammi chiamare. Che cosa potrebbe andare male? Se vuoi avere il potere in questa città, ti devi sbarazzare di Livia. Sarebbe un gioco molto pericoloso. Conosco bene Livia, fin da bambine. Lei mi ha tradito. Che cosa vuoi? Io voglio tutto quello che hai. Qualunque cosa sia, me ne occupo io. No, non puoi. Nemmeno tu. Non possiamo avere un'altra guerra civile. Addestriamo i ragazzi. Uccideremo chiunque di ostacoli. Domizio, tu devi prestare più attenzione alle donne. Se vuoi sapere quello che succede, sono stufa di essere comprata e venduta e maltrattata come una prostituta. Il gioco è questo e tutti lo devono giocare. Qual è la scelta? Vendetta o potere? Li avrò entrambi. Farò in modo che tutto cada in pezzi. Non volti le spalle alla tua famiglia! Dovrai bruciare la casa, cancellare tutto quello che lui ha fatto. Lo farò. Li avrò! E invece tu vuoi essere una dea.